Buonasera, c'è un'atmosfera davvero unica qui in questo piccolo borgo, mi viene quasi da parlare sottovoce perché veramente trovo questa atmosfera familiare da parte vostra, mentre da questa parte trovo un'adrenalina che esce da tutti i pori e mi sento anche un po' vecchia a introdurre questo gruppo perché è veramente un gruppo di giovani artisti che veramente sono da invidiare perché ci mettono una tal anima nel cantare che solo adesso potrete sentire veramente la loro voce e la loro forza, sono i B-Blues, sono dei ragazzi straordinari e simpaticissimi e sono con me, aspetta che adesso passo la parola subito a loro, Fabiana e Katia che ci diranno un po' da dove arrivano questi B-Blues, chi sono e soprattutto perché mi chiamate B-Blues? Vai Fabiana! Perfetto, allora il nome B-Blues è nato un po' da un gioco, tra di noi ci mandiamo delle email per informarci delle varie situazioni e anche delle prove insomma e in un email era stato scritto alla fine Stay Blues e abbiamo deciso di farlo diventare un motto e quindi Be Happy B-Blues era diventato il nostro motto e quindi B-Blues ma come mai il Blues, così giovani e amate già così tanto il Blues, Katia? Beh questa è una passione che comunque diventa da dentro, è qualcosa che hai nell'anima e B-Blues il nome rispecchia anche un po' questo stato, essere Blues, un modo di vivere, un modo di essere bene, vabbè allora secondo me abbiamo detto le cose essenziali per iniziare questo concerto io saluto questa band, guarda qua, mazza, quanti sono belli, non so parlare romano però io però vabbè farei un applauso e darei veramente la voce e gli strumenti a questo grandissimo gruppo di Blusa di Blusa